E' finita l'attesa per i abitanti del centro storico di Narni che dopo tre anni di assenza hanno nuovamente a disposizione un banco Mattatm che gli consentirà di effettuare in autonomia le principali operazioni bancarie. Dopo la chiusura dell'ultimo sportello bancario infatti l'amministrazione comunale si era messa all'opera per trovare le giuste sinergie con le realtà del territorio e all'appello a risposto Bancacentro Toscana 1. Siamo qui a Narni a far partire questo punto di contatto fra la nostra banca e il territorio. Non è un banco Mattatm intelligente, cioè una macchina che fa anche una serie di servizi evoluti e in un momento in cui le varie comunità vedono l'arretramento di una serie di servizi volevamo dare un segnale al nostro territorio e fare un investimento a servizio della collettività, della comunità e anche dei turisti e degli studenti che usufruiscono nell'anno delle attività di Narni. Questo è un cosiddetto ATM intelligente che consente di fare tutte le operazioni di banca e quindi è un servizio un po' più ampio sia per le attività commerciali che per i privati, possono essere fatti versamenti, pagamenti, è una modalità diversa, cerchiamo di dare un servizio innovativo compatibilmente con quello che sono oggi gli strumenti a disposizione. Non ci scordiamo di essere una banca di credito cooperativo e quindi di avere anche una funzione sociale, mutualistica sul territorio, per cui sono investimenti che facciamo sia nell'ottia di dare un servizio sia in quello di continuare a sostenere la nostra immagine di credito cooperativo pur facendo banca a 360 gradi. Grazie per la visione!